...da tutto insomma, un ringraziamento speciale, soprattutto voglio... ...ma che sono i luci... Allora voglio salutare che oggi è il compleanno di una grande amica che si chiama Mariella, che è in Argentina, oggi è un anno che sono in Argentina voglio salutarla, che tanto le arriverà tramite il web questo video Tanti auguri Mariella, un bacione, musica! Lei che cazziamo, eh? Yes, sono ragazze per me, posso mostrare Yes, sono ragazze per me, io voglio dimenticare Gli appena i miei occhi da carizzare E non mi rossi sulle mani morire Yes, sono ragazze per me, sono per me Allora voglio perché, saperne ballare Una, una, una E non so, una Una, una Una, una Una, una E non mi rossi sulle mani morire No, una, una 10 ragazze per me, posso mostrare 10 ragazze per me, io voglio dimenticare Non mi rossi sulle mani morire Non mi rossi sulle mani morire 1 ragazze per me, io posso mostrare 1 ragazze per me, quella Per me, io voglio dimenticare Non mi rossi sulle mani morire 4 ragazze per me, ciao 4 ragazze per te, io voglio dimenticare Grazie a tutti